Salve a tutti e benvenuti sul canale delle ricette di Josie Food Blogger. Oggi vi voglio proporre una ricettina molto veloce. In 6 minuti realizzeremo insieme il cappuccino con il nostro bimbi. È veramente magnifico e vi posso assicurare che è meglio del bar. La cosa molto importante è che il latte deve essere freddo da frigorifero. Io ho, diciamo, come dosaggio dosato due tazze di latte. Voi potete fare anche una tazza se siete una persona. Andiamo a mettere il latte nel boccale e andiamo ad azionare il nostro bimbi per 3 minuti a velocità 4. Ripeto, per far sì che il nostro latte viene ben montato deve essere abbastanza fritto dal frigo. Infatti vi faccio vedere, guardate quanto è montato il latte perfettamente. Adesso lo andiamo a riscaldare per almeno 3 minuti a 70 gradi a velocità 3. E nel frattempo che state riscaldando il latte potete preparare un caffè dalla vostra macchinetta del caffè a capsule e a cialde. Infatti una volta pronto lo andiamo a versare nelle nostre tazze. Ecco il latte perfettamente montato. Lo andiamo a mettere nelle nostre tazze. Ed ecco qui il nostro cappuccino pronto. Veramente cremoso e spinoso. Lasciatemi un like e vi aspetto per la prossima ricetta.